ovviamente questo è lo skyline di l'esantè, in una parte, guardate che bello tentiamo anche di fare una rive presa guardate i gabbiani come volteggiano sull'acqua dall'altra parte va insieme allora, precisando, questa pasticceria bianchi è dal 1889 questa è la via di Levanto è una pasticceria storica che ha passione, che ha impalato fino